sono una coppia dello Utah, hanno progettato di partire il prossimo luglio per un viaggio da Nuova York, la Grande Mela, e offrono tra virgolette, il compito starà quello di girare insieme a loro per il mondo, dall'Europa, dall'Asia e da Nuova Zelanda, e non solo non spendere un euro, ma venire anche retribuiti a livello economico e totalmente spesati per l'intera durata del viaggio in questione. Al candidato offerto o meglio selezionato, quindi che verrà scelto da loro due, verrà offerta una eventuale paga di 1.200-1.500 dollari circa, con in più la copertura delle spese di viaggio e del guitto e della luce. Ammontare delle ore lavorative giornaliere, ma ogni giorno ancora è difficile da calcolare visto che la persona prescelta viagirà con la coppia in questione, ma i coniugi si impegnano a fuori. E uno o due giorni a settimana, tutti da impegno. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, dopo questo possiamo considerarlo come il lavoro dei suoi. Iscrivetevi se volete, commentate e un saluto a tutti.